Il lettore mi perdone se parto giornalisticamente da una situazione esistenziale. Mi sarebbe difficile farmi a me. Sono in uno stabilimento di ostia, tra il turno di lavoro del mattino e quello del pomeriggio. Intorno a me c'è la folla dei bagnanti in un silenzio simile al frastuono e viceversa. Infuria la balneazione. Quanto a me, occupato a rigenerarmi dal buio insano del laboratorio di doppiaggio, ho in mano l'espresso. L'ho letto quasi tutto come fosse un libro. Guardo la folla e mi chiedo dov'è questa rivoluzione antropologica di cui tanto scrivo per gente tanto consumata nell'arte di ignorare? E mi rispondo Eccolo. Infatti la folla intorno a me, anziché essere la folla plebea e dialettale di dieci anni fa, assolutamente popolare, è una folla infimo borghese, che sa di esserlo, che vuole esserlo. Dieci anni fa amavo questa folla. Oggi essa mi disgusta. E mi disgustano soprattutto i giovani, con un dolore e una partecipazione che finiscono poi col vanificare il disgusto. Questi giovani imbecilli e presuntuosi, convinti di essere sazi di tutto ciò che la nuova società offre loro, anzi, di essere di ciò esempi quasi venerabili. E io sono qui, solo, inerme, gettato in mezzo a questa folla, irreparabilmente mescolato ad essa, alla sua vita che mostra tutta la sua qualità come in un laboratorio. Niente mi ripara, niente mi difende. Io stesso ho scelto questa situazione esistenziale tanti anni fa, nell'epoca precedente a questa, ed ora mi ci trovo per inerzia, perché le passioni sono senza soluzioni e senza alternative. D'altra parte, dove fisicamente vive? Ho l'espresso in mano, come dicevo, lo guardo e ne ricevo un'impressione sintetica. Com'è diversa da me questa gente che scrive delle stesse cose che interessano a me? Ma dov'è? Dove vive? È un'idea inaspettata, una folgorazione, che mi mette davanti le parole anticipatrici e credo chiare. Essa vive nel palazzo. Non c'è pagina, riga, parola, in tutto l'espresso, ma probabilmente anche in tutto panorama, in tutto il mondo, in tutti i quotidiani settimanali dove non ci siano pagine dedicate alla cronaca, che non riguardi solo e esclusivamente ciò che avviene dentro il palazzo. Solo ciò che avviene dentro il palazzo pare degno di attenzione e interesse. Tutto il resto è minucaglia, rurichia, informità, seconda qualità. E naturalmente, di quanto accade dentro il palazzo, ciò che veramente importa è la vita dei più potenti, di coloro che stanno ai vertici. Essere seri significa, pare, occuparsi di loro, dei loro intrighi, delle loro alleanze, delle loro congiure, delle loro fortune, e infine anche del loro modo di interpretare la realtà che sta fuori dal palazzo. Questa seccante realtà da cui infine tutto dipende, anche se è così poco elegante e appunto così poco serio occuparsene. Negli ultimi due o tre anni questa concentrazione degli interessi sui vertici e sui personaggi al vertice è diventata esclusiva fino all'ossessione. Non era mai successo in questa misura. Gli intellettuali italiani sono sempre stati cortigiani, sono sempre vissuti dentro il palazzo, ma sono stati anche populisti, neorealisti e addirittura rivoluzionari estremisti, cosa che aveva creato in essi l'obbligo di occuparsi della gente. Ora, se della gente si occupano, ciò avviene sempre attraverso le statistiche di doxa o pragma, se ricordo dei nomi. Per esempio, è indecoroso occuparsi di casalinghe, nominare le quali può al massimo mettere in ottima disposizione di spirito. Le casalinghe, a quanto pare, non possono essere che dei personaggi comici. E infatti sull'espresso ci si occupa delle casalinghe, questi animali enigmatici, lontani, perduti nelle profondità della vita quotidiana perché una statistica di doxa o di pragma ha appurato che il loro voto è stato notevolmente importante per la vittoria comunista alle ultime elezioni, cosa che ha fatto tremare il palazzo, causando terremoti nelle gerarchie del potere. Le casalinghe vivono nella cronaca, Fanfani o Zaccagnini, nella storia. Ma tra le prime e i secondi si apre un vuoto immenso, una diacronia che è probabilmente l'anticipazione dell'Apocalisse. A cosa si deve questo vuoto, questa diacronia? Perché la cronaca, che è stata sempre così importante dal 1945 in poi, è ora chiusa in un reparto stagno, relegata in un ghetto mentale, analizzata, sfruttata, manipolata, è vero in tutti i modi possibili suggeriti dalle norme del consumo, ma non collegata con la storia seria, non resa cioè significativa. Perché rapine, rapimenti, criminalità minorili, effettivi coprifuochi, furti, esecuzioni capitali, omicidi gratuiti, sono in un concreto esclusi dalla logica e comunque mai concatenati. Due ragazzi di 17 anni, alla Dispoli, luogo di villeggiatura della malavita, hanno ferito mortalmente a rivoltellate un loro coetaneo perché non gli aveva dato le candele della sua motocicletta che servivano alla loro. E il paese sera, intitola il pezzo su questo fatto di cronaca, Assurdo a la Dispoli. Assurdo forse nel 65. Oggi è la normalità. Quel pezzo doveva essere intitolato normale a la Dispoli. Perché questo anacronismo nel paese sera? Non lo sanno i giornalisti di paese sera che l'eccezione è trovare nelle borgate romane un diciassettenne senza rivoltello. Perché nessun giornale ha parlato di una sparatoria con Mitra a causa di una Porsche rubata avvenuta due o tre sere fa a Tormarancio? Perché nessun giornale ha parlato dei colpi di rivoltella sparati alle gambe di un giovanotto che fa il culturismo da un ragazzo di 15 anni che gli ha gridato la prossima volta ti sparo in bocca? Voglio dire, perché la stampa rimuove e fa passare sotto silenzio migliaia di reati come questi, i furti e gli scippi non si contano, che avvengono ogni notte nelle grandi città trascegliendo fra tali reati solo quelli di cui non si può decentemente tacere e per di più sdrammatizzandoli imponendo all'opinione pubblica un adattamento. Ma non voglio rincarare la dose e passare per un uomo d'ordine. Sia ben chiaro che la malavita mi interessa solo in quanto i suoi rappresentanti sono umanamente mutati rispetto a quelli di dieci anni fa. E ciò non è un episodio. Fa parte di un tutto unico, di una rivoluzione antropologica unica che comprende anche la mutazione delle casalinghe. La domanda reale è perché questa diacronia tra la cronaca e l'universo mentale di chi si occupa di problemi politici e sociali? E perché all'interno della cronaca questa divisione dei fenomeni? Ciò che avviene fuori dal palazzo è qualitativamente, cioè storicamente, diverso da ciò che avviene dentro il palazzo. È infinitamente più nuovo, spaventosamente più avanzato. Ecco perché i potenti che si muovono dentro il palazzo e anche coloro che li descrivono, stando anch'essi logicamente dentro il palazzo per poterlo fare, si muovono come atroci, ridicoli, pupazzeschi idoli mortuari. In quanto potenti essi sono già morti perché ciò che faceva la loro potenza, ossia un certo modo di essere del popolo italiano, non c'è più. Il loro vivere è dunque un sussultare burattinesco. Uscendo fuori dal palazzo, si ricade in un nuovo dentro, cioè dentro il penitenziario del consumismo. E i personaggi principali di questo penitenziario sono i giovani. Strano a dirsi. E' vero che i potenti sono stati lasciati indietro dalla realtà con addosso come una ridicola maschera il loro potere clerico fascista, ma anche gli uomini all'opposizione sono stati lasciati indietro dalla realtà con addosso come una ridicola maschera il loro progressismo e la loro tolleranza. Una nuova forma di potere economico, cioè la nuova reale anima, se Moro permette, della democrazia cristiana che non è più un partito clericale perché la Chiesa non c'è più, ha realizzato attraverso lo sviluppo una fittizia forma di progresso e tolleranza. I giovani che sono nati e si sono formati in questo periodo di falso progressismo e falsa tolleranza stanno pagando questa falsità e il cinismo del nuovo potere che ha tutto distrutto nel modo più atroce. Eccoli qui, intorno a me, con un'ironia imbecile negli occhi, un'aria stupidamente sazia, un peppismo offensivo e afasico, quando non un dolore e un'apprensività quasi da educande con cui vivono la reale intolleranza di questi anni di tolleranza. Nello stesso numero dell'Espresso che dicevo, Moravia recensisce un film che parla di un padre per bene che ha un figlio contestatore, assassino e conclude in assoluta coerenza con tutto se stesso che a un simile padre in un simile frangente non resta altro che cercare di capire il film. Non fare tragedia, non ammazzarlo, non ammazzarsi, ma cercare di capirlo. E dopo che l'ha capito? Mi chiedo io, dopo che ha compiuto questo magnifico atto di liberismo morale? Certo che il capire di cui parla Moravia è un capire razionale, cioè occidentale, e comporta dunque la necessità di un susseguente agire. Ammettiamo che questo padre, dopo essersi messo nello stato d'animo di un entomologo che studia il suo insetto, riesca alla fine a capire il figlio e trovi che egli è un imbecille, un presuntuoso, un incerto, un aggressivo, un vanitoso, un criminaloide, oppure anche un sensibile disperato. Cosa dovrebbe fare? Accontentarsi di averlo capito, ma l'accontentarsi di capire implica imparzialità e indifferenza. È l'agire che qualifica. È un padre che ama, agisce. Egli è destinato a restare morto nella polvere come il negletto laio. Non esiste altra possibilità. Dunque il capire è il meno e l'agire non può consistere in altro che nell'aggredire il figlio per poter restare appunto alla fine morto sulla polvere. Io guardo i figli, cerco di capirli e infine agisco. Agisco dicendo loro quella che io credo la verità sul conto loro. Voi vivete nella cronaca, che è la vera storia, perché anche se non è definita, non è accettata, non è parlata, è infinitamente più avanti della nostra storia di comodo, perché la realtà è nella cronaca, fuori dal palazzo, e non nelle sue interpretazioni parziali o peggio ancora, nelle sue rimozioni. Ma questa cronaca vi vuole sconvolti in una crisi di valori perché il potere, creato in conclusione da noi, ha distrutto ogni cultura precedente per crearne una propria fatta di pura produzione e consumo e quindi di falsa felicità. La privazione dei valori vi ha gettato in un vuoto che vi ha fatto perdere l'orientamento e vi ha umanamente degradati. La vostra massa è una massa di criminaloidi a cui non si può più parlare in nome di niente. Le vostre poche elite colte, socialiste o radicali o cattoliche avanzate, sono soffocate da una parte dal conformismo e dall'altra dalla disperazione. Gli unici che si battono ancora per una cultura e in nome di una cultura in quanto si tratta di una cultura diversa, proiettata verso il futuro e quindi al di là, fin da principio, delle culture perdute, quella di classe borghese e quella arcaica di popolo, sono i giovani comunisti. Ma per quanto potranno difendere ancora la loro dignità? da notarsi che l'aio è stato ucciso fuori dal palazzo.